è un'alba parietti show alla zanzara su radio 24 tra sesso politica e anche ballando con le stelle la show girl ha espresso le proprie opinioni ai microfoni di cruciani senza risparmiare nemmeno lui ma ha anche difeso amendola prima di tutto mette in chiaro la sua preferenza al voto bonino grasso e pd in tre schede diverse ma la politica non mi interessa più sono diventata filo papista mi occupo solo dello spirito dell'anima l'unico leader l'unico punto di riferimento è papa francesco averne di politici come il pontefice detto ciò ci tiene a difedendere a medola crocifisso per aver dichiarato e decretato salvini il miglior politico degli ultimi 20 anni io non voterei mai salvini ammette la parietti perché è l'antitesi di tutto ciò che è il mio pensiero politico non voterei mai a destra per dna sarebbe come tradire mio padre ma è vero che salvini è capace di fare politica lui è un politico ha saputo fare politica e ancora ha fatto quello che è stato incapace di fare la sinistra cioè stare vicino ai bisogni della gente un bel destro al volto della sua amata sinistra tanto amata dalla parietti come non parlare poi di ballando con le stelle ho visto un paio di volte ballando con le stelle con la coppia ciacci todaro di qualcosa devono pur parlare non hanno la parietti come l'anno scorsa punge dagli studi di radio 24 mi sembra una polemica fatta apposta costruita devono pur inventarsi qualcosa di cui parlare in ogni caso dai tempi dei greci gli uomini ballano insieme e per desert il capitolo sesso qui alba ammette ormai ho rinunciato è molto più interessante avere un rapporto intellettuale che avere un rapporto sessuale con uno che ti scopa perché ha preso il viagra l'impotenza intellettuale è molto più tragica e triste meglio un intellettuale impotente che uno scopatore deficiente non c'è dubbio ma questo lo penso da quando avevo 30 anni da tempo continua ho uno scarso interesse per il sesso poi il consiglio alle donne un periodo di menopausa per cominciare a capire i valori è molto più difficile avere un rapporto sessuale con una donna sul piano intellettuale che averlo sul piano fisico sul piano fisico siete capaci tutti basta prendere una pastiglia azzurra sulla masturbazione invece dichiara a chi non piace e poi dopo non mi tocca parlare magari con uno come te cruciani e questo mi solleva molto d'altronde anche gli uomini lo fanno per lo stesso motivo è una domani saliremo è una domani saliremo è una domani saliremo attraversi da è una domani saliremo Weagra